servizi. Mettere a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli enti e delle pubbliche amministrazioni centrali, ottimizzare gli investimenti e assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza e cyber security nell'erogazione dei servizi pubblici digitali. È con questi obiettivi che è stata costituita 3ISPA, la software house italiana a capitale e partecipazione interamente pubblica che avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici di IMSS, ISTAT, INAIL e della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme ad altre pubbliche amministrazioni centrali. Con le istituzioni di 3A e dichiara il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti creiamo un polo di riferimento per le pubbliche amministrazioni centrali, oltre che un centro di eccellenza nel panorama dei fornitori dei servizi digitali per gli enti e tutto il settore pubblico che consentirà una governance pubblica diretta, efficace e stabile dei sistemi e delle strategie ICT al servizio delle pubbliche amministrazioni